Mancano otto minuti al termine della partita Sembra poco lucido Prova la botta E il passato finisce in gol Un gol che rende ancora più significativo la distanza per due squadre Ma chiaramente non è mai fatto vedere la percina Mi aspettavo un match certamente più equilibrato con poche occasioni Invece oggi saranno riusciti a calciare spesso in porta E hanno provato il gol a via della red Hanno creato parecchie palle e gol, è vero?